attrice e cantante aristocratica dagli illustri natali una passione per la musica coltivata sin dall'adolescenza in particolare quella degli anni 30 e 40 con una predilezione per gli anni 50 ha debuttata al teatro parioli leontina ruffo di calabria con il suo one woman show maramao tu non sei morto trovo che sono canzoni con delle parole meravigliose che anche se hanno 50 anni 70 anni sono sempre molto attuali e a e sono molto amate un collage di celebri canzoni un mosaico di brani indimenticabili da violino zicano a sentimental guarda non li rivivo con malinconia ma con grande gioia e come avergli dato una come disse pippo bauda una verniciata non è rispolverarli una verniciata ridargli la vita un viaggio alla scoperta della nostra italianità tra politica cultura e società beh è vero io non appartengo a quell'epoca però sono sempre stata affascinata da queste canzoni dalla musica e lì mi sono rimasti io se devo sentire una canzone sento quell'epoca lì perciò è una cosa che ho dentro devozione al canto alla musica al teatro per leontina ruffo di calabria nessuna predilezione assoluta l'eco di una melodia sempre nel cuore grazie 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 Grazie.